Ah, ma loro sono simpi. Cazzuto, la skin desider. Bene, siamo automaticamente morti. Quindi tipo il tuo lavoro sarà stare fermo finché qualcuno non ha poca vita e sciottarlo di attacco base, giusto? Sì. Io e il Witsine che sto per andarmi a fare. Io e la mia vita, che non esiste. Oh, la mia di vita. Volevo l'assist. Ma cosa? Io non ho l'amana. Vero lì. Vaffanculo, tutti avevo il barrier. Bene. Quanti laser? Perché loro hanno solo laser? E Caterina è azzarda. Caterina? Oh, la tivere di Garen. Caterina, Garen. Io no. No, Garen è con noi. Sì, tu. E poi io e Garen. Eh, eh, eh. Duff. Ma allora, tipo missioni? Missioni? Cosa? Le missioni, le cosine si fanno tutto uccide e quella per avere la corroncina di Ghiaccio. No. Se sono Alessandra, Ascio o Giovanni, sì. Sì, loro. Poi c'è anche la cosa, quella di... La ZX e il Rengar. Che? Sì, tipo quella di Caterina. E quella di Jinx e... No. No. Cosa, 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 c'è? Ovviamente, Backstory, che sono tipo... Eh, tipo Smak Smak. Perché si è detto di fare AD ai 17 di AP? Perché sono trash. E quindi? Le anime. Trash guadagna AP per le... Eh, guadagna AP con le anime. Oh. Non conosci trash, davvero? No. Dico solo che AP è bello. È più bello. Perché è YOLO. Ma no, il trash addietro è spiego. Bene. Ma non abbiamo affatto un cazzo. Esatto. Ma è bellissimo che stanno le... Vogliono... I nemici vogliono riportare la karma, che è nemisa. Perché? Perché sta trollando. Inaram. Cazzo, Inaram devi trollare. Nasconde dietro la torre, non lo vedo. Abbiamo la stessa forma. Io sono la torre. Perché si gioia io. Oh. Sono viva. Oh, no, 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 no. Beppe. Ah. È baffanculo. I go... I go to go in 4 minuti. Eh. Eh. Ma cosa hai detto? Come lei cosa hai detto? Io ho sai in inglese perché è un prof. Salinger, ricordatelo. E credo sia un favoritissimo. Perché sei... O quanto hai io non esco questo garen? Ah. Anche me adesso. Serrat con Spellbump. Ma, 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 ma. Ina, ma, ina. Perché? Vladimir con la Gumblade. Vabbè, dà più AP. Ci può stare. Ma dove dà più AP del Will of the Ancient? Ma dà più AP? Dallo stesso. Ma no, ma, ma dà di piuttosto. Appunto. Da fu... Questo Vladimir. Vivo. Metti lui invulnerable adesso. Invulnerable. Oh, una kill anche per me, gatti. È idea. Sono 8. Sì, è prezza. Ora mi ha detto a spettare tutte le finti che non diventa più tanto. Ah, sono andato solo io. No. Ne, ne, se, ne. Ma questo coso ha 19 di vita. Sail. La Yolo ulti? Sì. Perché Xelera sta emanando un'aula di invincibile potere? Perché è Zweg. Sì.